Uno, evviva, evviva Coglio al Metauro! Taglio del nastro per la nuova casa della salute in località Calcinelli di Coglio al Metauro. La struttura è stata possibile realizzarla in collaborazione con l'Area Vasta 1 che ospiterà i servizi territoriali rivolti ai cittadini quali cure primarie attraverso la presenza di medici di medicina generale, servizi consultoriali e screening, servizi rivolti a minori adulti, punto prelievi, medicina fisica riabilitativa di logopedia e infine postazioni territoriali dell'emergenza sanitaria POTES. Abbiamo la certezza di una miglior funzionalità per gli operatori che vi operano all'interno, una miglior funzionalità per il cittadino che vi deve accedere, ma soprattutto la certezza per il territorio di Coglio al Metauro, ma non solo di Coglio al Metauro, di avere indubbiamente anche in futuro dei servizi qui a portata di mano e presenti sul territorio. Il progetto della nuova struttura vede anche il sostegno della regione Marche. Era un investimento atteso, uno dei tanti investimenti che sono stati fatti in questi anni in tutto il territorio della Ravasta 1 e con delle coincidenze particolari, il fatto di arrivare in questa fase di emergenza post-covid che ha permesso di scoprire il valore della medicina di territorio e non solo gli ospedali come punto di riferimento della salute. La struttura sanitaria è stata intitolata a Giorgio Scrofani, recentemente scomparso, un operatore ipotesi di grande professionalità, ricordato così dai suoi colleghi. E all'entusiasmo che avevi nell'aiutare gli altri. Oggi sei con noi e resterai sempre il nostro indimenticabile collega, i tuoi colleghi. L'intitolazione alla struttura Giorgio è stata fissa all'ingresso con una targhetta dedicata. Giorgio ci teneva tantissimo alla salute delle persone. Non per questo aveva scelto di fare questo lavoro, era sempre quello che lui aveva voluto fare, lo ha fatto sempre con grande passione, con grande dedizione. E c'è una frase che raccoglie un pochino tutta l'essenza che era quella di mio marito, di Giorgio. Ed è questa frase qui, lui scriveva «Renditi utile. Quando vedi una persona senza un sorriso, donagli il tuo. La vita è un eco. Quello che invii, prima o poi, torna indietro. Quello che semini, raccogli. E quello che dai, ottieni. Quello che vedi negli altri, esiste in te». Questo è l'essenza di Giorgio Scrofani. Giorgio Scrofani